Credito Agricola Italia, società controllata per il 75,6% da Credito Agricola, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni Creval. La notizia è stata abbattuta questa mattina dalle agenzie ed è subito rimbalzata in provincia di Sondrio, terra dove la banca è nata nel 1908. L'OPA, precisa l'agenzia Teleborsa, sarà con corrispettivo in denaro a 10,5 euro per azione. L'esborso massimo per arrivare al 100% del capitale di Creval sarà di 737 milioni di euro. Credito Agricola Italia, si legge in una nota, intende procedere alla fusione per incorporazione di credito valterinese, al fine di consentire un'effettiva integrazione delle proprie attività con quelle di Creval. L'OPA dovrà affrontare alcuni step, il documento di offerta verrà pubblicato solo dopo l'approvazione da parte della Consob, un passaggio che potrebbe avvenire nel primo trimestre 2021. La fine del periodo di offerta dovrebbe invece ricadere nel mese di maggio. Se l'acquisizione dovesse andare in porto, Credito Agricola Italia diventerebbe la sesta banca commerciale del paese per masse gestite e settima per totali di attivi e numero di clienti, raggiungendo una quota di mercato del 5% a livello nazionale. Stamattina, in apertura di seduta, le azioni di credito valterinese hanno fatto segnare un incremento a doppia cifra, superiore al 20%. Nei primi nove mesi del 2020 la banca, presieduta da Alessandro Trotter, ha conseguito un utile netto consolidato di 65.600.000 euro, quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Certamente gli indicatori di solidità tra i più alti del sistema creditizio italiano e i risultati raggiunti dal management guidato dall'amministratore delegato Luigi Rovaglio sono tra i fattori che hanno accresciuto l'attrattività della banca. Al momento Creval non rilascia commenti in attesa del prossimo Consiglio d'amministrazione che valuterà l'operazione annunciata. Nell'attuale assetto azionario di Piazza Quadrivio, la società assicurativa del gruppo Transalpino Credita Agricola Assurance è presente con il 9,8%.